Elezioni provinciali di Teramo. Finisce 7 a 5 a sostegno del presidente Diego Di Bonaventura, ma in consiglio non viene eletta nemmeno una donna. Vediamo nel dettaglio il voto. La lista ufficiale dei partiti di centrodestra alla forza del territorio per Di Bonaventura presidente ottiene tre seggi. Il centrosinistra unito, con la Casa dei Comuni, elegge cinque consiglieri, nessuno dei Cinque Stelle e loro alleati. Ma a stupire è il risultato della lista civica Renew Teramo, sostenuta dall'ex assessore regionale Paolo Gatti, in tandem con Giulio Sottanelli, attuale coordinatore in Abruzzo di azione, che conquista quattro seggi. Centrodestra e civici dunque alleati in consiglio provinciale per i prossimi due anni? Per il presidente della regione, Marco Marsilio, il risultato elettorale della provincia di Teramo conferma un rapporto solido tra questi due schieramenti. Ma è Giulio Sottanelli a prendere subito le distanze e a ricordare che il Renew Teramo è un movimento civico, assolutamente autonomo rispetto al centrodestra e senza collegamenti con Di Bonaventura. Dunque il futuro è fluido e incerto. Entrano in consiglio provinciale per la lista dei partiti di centrodestra Luca Frangioni, già vicepresidente uscente, il più votato, con 7455 preferenze, Ivan Costantini, sindaco di Giulianova, e Gennarino Di Lorenzo, consigliere uscente. Per la lista civica Regno Teramo, Lanfranco Cardinale, consigliere uscente, Egno Pavone, Luca Corona e Giovanni Luzzi, anche lui riconfermato. Per la Casa dei Comuni, che siede sui banchi della minoranza, confermati gli uscenti, Mauro Scarpantonio e Graziano Ciapanna, entrano Vincenzo Dercole, sindaco di Castiglionme e Serremondo, Luca Pilotti e Ernesto Iezzi. Nota dolente di queste elezioni. Nessuna donna farà parte del nuovo consiglio provinciale di Teramo, poiché nessuna lista ne ha eletta una. Mi dispiace molto che non sia stata eletta una consigliera, commentato il presidente di Bonaventura, che ha aggiunto «Ritengo che l'assenza di una donna in assemblea rappresenti in generale un forte limite». Un risultato tristissimo, infatti, che va contro la storia stessa dell'amministrazione provinciale teramana, tra le prime in Italia nel 1987, ad istituire proprio una commissione per le pari opportunità. Un vanto per questa provincia, almeno fino ad oggi.